Lo hanno arrestato dopo un inseguimento per le strade della zona industriale di Gela. Ha cercato in tutti i modi di dileguarsi tra le sterpaglie della campagna limitrofa, ma è stato bloccato ed ammanettato. Protagonista della vicenda è il gelese Giuseppe Trubbia, 20 anni. Ad acciuffarlo sono stati gli agenti di polizia del locale commissariato, diretto da Francesco Marino e quadruati da Massimiliano Santoro. Il ragazzo con precedenti per reati contro il patrimonio aveva commesso un furto di tre moto da competizione del tipo cross, rubati da un capannone adibito alla lavorazione di gelati. Con lui c'era un altro soggetto rimasto al momento sconosciuto. Alla vista della polizia Trubbia ha tentato una disperata fuga, ma come dicevamo è stato bloccato ed arrestato. La zona industriale da alcuni mesi a questa parte è diventata bersaglio dei ladri. Numerosi i furti registrati e la polizia, proprio in merito a questa impressionante scalazione criminosa, ha aumentato i controlli, soprattutto nelle ore notturne. Sempre la polizia, con il coordinamento del responsabile delle volanti, Laura Romano, ha arrestato Massimo Scudera, 37 anni, risultato assente al controllo effettuato dagli agenti presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari.